Sono vent'anni che sta il centro-sinistro alla regione, vent'anni! Ci hanno tolto tutto a livello sanitario, tutto, non abbiamo più niente. Verranno a dire, è probabile dopo, se fanno il commizio, la prossima volta che verrà. No, ma fitto, fitto, sono vent'anni che è sparito. Sono vent'anni, dieci anni di ventola di rifondazione comunista.